Affinché la progettazione didattica dia luogo ad un apprendimento profondo e durevole, è importante individuare il giusto mix di didattica frontale e didattica attiva. Ma quali sono gli elementi che un docente deve prendere in considerazione per progettare questo giusto mix per il proprio corso? Il punto di partenza sono i risultati di apprendimento attesi, che se opportunamente articolati e coerenti con la strategia di valutazione danno indicazioni molto utili in fase di progettazione delle attività. Il primo passo è individuare quindi i risultati apprendimento attesi sui quali investire in attività con gli studenti e quali invece raggiungere attraverso didattica frontale. Esistono poi una serie di macro variabili che vanno prese in considerazione e che impattano sulla scelta e la struttura delle attività da progettare. Dal punto di vista operativo, l'elemento che maggiormente impatta è la numerosità degli studenti. Nel contesto universitario italiano può essere utile distinguere fra classi medio-piccole, ovvero classi che non superano i 70-80 studenti, e classi grandi, ossia classi di 100-150 studenti e oltre. Nella classe medio-piccola vi è maggiore possibilità di interazione orizzontale e non segmentata fra tutti gli attori della rete, ossia è più facile immaginare l'interazione fra tutti i pari, ma anche tra docente e singoli studenti. Nella classe grande il focus si sposta invece sull'interazione verticale e segmentata, con interazioni fra il docente e la classe vista come gruppo e tra gli studenti raccolti in piccoli gruppi. Un secondo macrofattore che impatta in fase di progettazione è il tempo da dedicare alle attività, che è correlato anche alla grandezza della classe. Ad esempio, in una classe grande servirà più tempo affinché le informazioni per lo svolgimento delle attività si diffondano all'interno della rete stessa o affinché tutti completino le attività assegnate. Un ultimo macroelemento da prendere in considerazione è il set di risorse, in termini di spazio fisico e strumenti e infrastrutture digitali. Gli spazi di apprendimento, la loro attrezzatura e l'infrastruttura a disposizione possono facilitare, o al contrario rendere più complessa, la condivisione di fonti diverse, l'organizzazione di attività collaborative tra studenti e la co-costruzione dei risultati. In presenza di condizioni non ottimali o nel caso di classe numerose possiamo comunque mettere in campo tre strategie. Utilizzare sistemi digitali che aiutino a condividere e a gestire informazioni, prevedere attività brevi che richiedano poco sforzo organizzativo in aula e utilizzare il formato microblended che prevede la fruizione individuale di contenuti prima della lezione e che libera quindi spazio in aula per attività più articolate. Qualunque siano le attività che si intende proporre alla classe è utile prestare tempo a due passaggi fondamentali. Come prima cosa una macro progettazione del corso che visualizzi sinteticamente modulazione e frequenza delle singole attività legate alle lezioni e ai loro obiettivi prioritari. In questo modo diventa anche molto facile effettuare una riconfigurazione nel caso se ne presenti la necessità. Per ogni singola attività andrebbe preparata poi una vera e propria sceneggiatura, uno storyboard se vogliamo chiamarlo con linguaggio cinematografico, articolato nelle varie fasi dell'attività. Per ciascuna fase va indicato chi fa che cosa, descrivendo le dinamiche attive fra gli studenti e il ruolo del docente, i materiali e gli strumenti che servono, il tempo previsto, gli input necessari per avviare l'attività e ovviamente l'output richiesto. Questo può sembrare un lavoro molto di dettaglio, forse anche un pochino troppo. In realtà è attraverso questa progettazione che si riescono a far emergere quegli aspetti che non erano stati presi in considerazione, che si riescono a ottimizzare o semplificare alcuni passaggi e che si mappano tutti i materiali che servono per poi lanciare l'esercitazione e l'attività in aula. Grazie a questa progettazione, soprattutto, si evitano inutili perdite di tempo o difficoltà di gestione quando poi proporemo l'attività in aula. Infatti, se si dilatano i tempi o se alcuni passaggi risultano troppo farraginosi, il rischio è quello di lasciare la sensazione agli studenti, ma anche a noi docenti, che le attività non hanno funzionato, anche se in realtà erano ben progettate e integrate nella esperienza di insegnamento-apprendimento. È però importante ricordare che nulla è scritto nella pietra. Il docente designer deve, infatti, continuamente osservare quello che succede in aula, raccogliere i feedback e riedattare in corso d'opera. Durante l'attività può essere necessario, ad esempio, rimodulare di un poco i tempi, oppure cambiare i compiti che sono stati assegnati o addirittura aggiungere una fase all'attività. E tutto questo è molto più semplice quando a monte c'è una progettazione di dettaglio. Per concludere, quando si progettano le attività di un corso è fondamentale partire dai risultati di apprendimento attesi e dalle strategie di valutazione e tenere in conto i macroelementi che vanno a impattare sulla progettazione dell'esperienza di insegnamento-apprendimento, la numerosità degli studenti, il tempo e le risorse a disposizione. Per ogni singola attività, poi, è fondamentale fare una progettazione di dettaglio creando un vero e proprio storyboard che aiuti il docente a presidiare i singoli aspetti e fare rapidi aggiornamenti in corsa sulla base dei feedback che emergono dalla classe.